Io e Miller scendemmo dal treno, poi risalimmo la galleria fino al teatro Corle. Eravamo vicini alla torre di Ostanchino, nelle strade gelate. Ci unimmo agli altri ranger nella furibonda battaglia che diede inizio alla mia storia. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Cosa chiamine? Formate un cerchio! Mantenete la calma! Guardatevi le spagno, ragazzi. Sì, devo che sarai anche tu, anche nella politica. Al mio segnale. Malta! Poco a malattà! Tenete le posizioni! Sto ricaricato! Devoli! Devoli! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Arzios, qui! Arzios, che vengono qui! Viva, 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 viva! Dai, blocchiate quella stanza, Archeon! Ci siamo quasi! Siamo in una grande storia e facciamo schifo! Bene, viva, viva, viva! Ora, siletto, avanti! Archeon, siamo in cima! Ecco, è questa parte! Certo, raggiungere la cima! Miller, sei un eterno ottimista! È più facile a dirsi che a farsi! Ok, ho un'idea! Saliamo sopra l'ascensore! Cercheremo di sbloccare il contrapeso! Avanti! Forza, stronzo! Avanti! Voila! Entra nell'esercito, diceva, non sarà divertente! Tieni di forte! Non sarà una passeggiata! Cazzo! Stai bene, Archeon! Fantastico! Allora, rispondi! Il bersaglio è coperto da nubi alti! Saliamo più su, basso! D'accordo, Archeon! Ora, dobbiamo trovare un modo per farti salire quassù! Evo lì! Nasconditi! Ben è andato! Indietro, bastardo! Sciogli il stronzo! Indietro di te, Archeon! Indietro! P Miller! Spara Archeon! Archeon! Miller! Spara Archeon! Spara! Quello stronzo! Rispondi, Ullman! Sono ferito! Sono ferito! Vieni in contatto con Artyom! Passo! Passo! Ricevuto, colonnello. Passo. Il laser non ci servirà a nulla qui, Artyom. Le nubi sono troppo fitte. Devi salire più in alto che puoi e configurare il sistema di guida. Muoviti, ragazzo! Ora dipende tutto da te! Masa, Yad, Yad. Grazie a tutti. 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 Rispondi, Artyom. Rispondi! Artyom, il segnale è perfetto. Tieni duro ancora un minuto e li becchiamo. Ti fermeremo, Artyom. Non bisogna per me prevergli. Lo distruggeremo. Artyom, Artyom. 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 Visto la cirurgia, arriva di lei, non bisogna sapere di lei, arriva di lei. Visto la cirurgia. Visto la cirurgia, arriva di lei, arriva di lei, arriva di lei, arriva di lei. Visto la cirurgia, arriva di lei, arriva di lei. Visto la cirurgia, arriva di lei, arriva di lei. Sei ostile, va ucciso. Visto la cirurgia, arriva di lei. Procedura di guida completata. Artyom, i missili sono in volo! Un tempo un saggio disse, «Colui che muove guerra per amore del prossimo sconfiggerà i propri nemici». Io ho condotto la mia guerra per proteggere la mia famiglia, i miei amici e la mia casa, la metropolitana. avevamo vinto. Ma oggi mi domando... Quando abbiamo annientato i tetri, non abbiamo forse perso qualcosa?